ciao a tutti e bentornati sul mio canale siamo tornati qui con la carriera giocatore su fifa 23 sono passato come potete vedere all'atalanta che ha investito un po il realistico e l'atalanta investa 171 milioni circa 171 e 7 devo essere preciso ora con la con la schermata allora io in off camera prima che finisse il calcio mercato perché non volevo passare dalla finestra di mercato invernale ma prima che finisse mi era arrivata addirittura la prima offerta dalla juventus mi ha cercato anche il barcellona infatti quando mi ha cercato il barcellona avevo mantenuto il salvataggio perché ho detto il barcellona vado al barcellona poi sono andato nella finestra quando si è aperto il mercato di giugno e mi è arrivato all'offerta dall'atalanta e allora ho riflettuto ho detto ma sono ancora giovane perché gd l'ho creato mi pare che il primo anno avesse 18 anni se non erro quindi terzo anno ne fa 20 e mi sono detto ma perché andare subito al barcellona andiamo in una squadra intermedia quindi come mi è arrivata l'offerta dell'atalanta ho detto subito sì l'atalanta che valorizza i giovani con il gasp e quindi mi sono detto ma perché non fare una carriera cioè non continuare la carriera una squadra di questa portata è tra l'altro italiana che io in FIFA 22 non sono andato nel campionato italiano quindi campionato diverso ho detto vado subito all'atalanta magari faccio 1 barra 2 non so se l'atalanta è in una competizione europea non so che avrà fatto in questi anni ma male che vada proveremo con il mio acquisto ad arrivare alla zona champions league andiamo a fare le attività allora c'è incontra gli ex compagni assolutamente sì ci sono stati amore e odio con i miei compagni con il bocca però ringrazio comunque il bocca preparativi per il compleanno ah quindi che bello festeggio anche il compleanno un compleanno da ricordare azzine in ogni caso spendo 50.000 riunisci i tuoi compagni di squadra festeggiare il compleanno una partita bulica hamburger patatine e poi tutti al karaoke mentre invece quest'altro invita i tuoi familiari e i tuoi amici più cari per festeggiare il tuo compleanno lo champagne al fresco e il cibo abbondante beh mi piace mi piace più la prima un compleanno da ricordare c'è una partita bulica hamburger patatine però il fatto che festeggio solo con i miei compagni di squadra no ovviamente invito anche i miei familiari che diamine quindi scelgo questa eh scusate che faccio festeggio con i compagni e non chiamo la mia famiglia ma no assolutamente no festeggio con loro ecco anche con la mia famiglia qui intanto avevo fatto in off camera l'investimento app per cellulare guadagno 7.500 dal mio investimento di 50.000 o 800.000 euro ah e poi qui guadagnerò molto di più perché 90.000 a settimana quindi un grandissimo upgrade rispetto al Boca certo Barcellona me ne avrebbe offerte di più la io me ne avrebbe offerte di più mi aveva cercato anche il Liverpool in Manchester United che me ne avrebbero offerte di più però alla fine quando ho visto Atalanta ho detto no vado qui e basta allora vediamo dove investire perché sono usciti anche nuove cose però queste qui non le posso fare perché mi serve un milione però voglio un investimento bello pesante e quindi investo in una catena di ristoranti vai a me piace mangiare quindi ristoranti investo 300.000 posso guadagnarne 375.000 andiamo al negozio perché voglio comprare qualche altra cosa che se non erro era uscito anche qualcosa di nuovo qui vediamo cosa posso acquistare il personal trainer l'ho fatto uno stilista no vabbè io non sono tipo da stilista poi magari in futuro potrei anche decidere costruisci una sala cinema costruisci una sala giochi in casa costruisci una sala l'ho fatto alle scuole mai non lo donerò mai il denaro alle scuole acquisto un orologio di russo no vabbè a me va bene anche l'orologio da 10 euro sinceramente acquisto un'auto elettrica mi stuzzica questa cosa finanzia una borsa di studio per lo sport acquisto un terreno ah magari eh dona denaro ai centri sportivi giovanili acquisto un piccolo appartamento dona denaro agli ospedali no lo donerei agli ospedali ma poi mi cuccio tutto i soldi che ho da parte e quindi voglio donare la metà dei miei profitti attuali quindi il dono denaro ai centri sportivi giovanili facciamo crescere altri talenti cristallini come gamer junior dai e 200 punti trascinatore a tra l'altro voglio anche dire una cosa che l'atalanta è pur vero che offerto tanto 171 milioni ma l'atalanta mi ha ingaggiato quando io avevo 86 quando sono andato alla stagione che mi è partito il caricamento ho fatto gli allenamenti ho fatto l'upgrade 88 quindi l'atalanta mi avrebbe pagato ancora di più è stata anche fortunata in questo mi ha acquistato e ho fatto upgrade di due quindi buon per loro intanto avanziamo o tra l'altro qua buono recita nella campagna tv e mi danno 50 mila buono 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 faccio soldi a parte servizio della serie sul docu film sul bergamo calcio altri 50 mila ma benissimo pubblico una biografia l'avevo già fatto in off camera però se lo faccio per ciucciarmi 50 mila però se l'avessi dovuto prendere come decisione se io non l'avrei presa perché ho 20 anni che pubblico una biografia su un giocatore di 20 anni dai ne avessi 30 va bene e poi tra tra tre giorni finisci sui giornali lo andremo a vedere poi dopo fra tre giorni una rubrica sul programma della partita intervista per un importante quotidiano e lasci un'intervista un noto quotidiano due panni della squadra due compagni e dei risultati che spero di raggiungere in questa stagione tiene una rubrica sul programma del club per la partita così da far riconoscere il tuo pensiero ai tifosi di ogni settimana e lascia un'intervista una rivista di gossip con foto sulla tua vita privata e la possibilità di parlare del tue aspirazioni come calciatore no direi di fare la seconda vai punti generale di generosità mi danno costi pro che devono sapere di un giocatore ventenne ancora servizio fotografico con lo sponsor penso altri 50 mila euro poi ne avevo speso ero a spese ero avevo speso tutti quei soldi tra investimenti e la donazione sono di nuovo a 769 mila vedete squadra più importante diciamo con un brand magari più alto che lì magari sono standard minori guadagno maggiore ed è buono questo tanto perché mi deve scalare la fiducia allenatore se non ho ancora fatto una partita dovrebbe essere bloccata la fiducia allenatore prima di una partita perché tu che ne sai sicuramente dovrebbe essere alta perché vengo per 171 milioni e 7 quando venivo quindi cioè se uno investe dei soldi per questo giocatore vuol dire che è forte no poi si può rivelare sempre una pippa perché il rischio uso sempre però c'è spendere 171 milioni per un giocatore vuol dire che che poi a mio modo di vedere giusto per l'overroll è perché io c'è spendere ormai c'è è molto realistico perché perché con le cifre di oggi si spende subito un giocatore fa una cosa buona e subito il valore schizza le stile però 171 milioni per uno che viene dal campionato argentino anche poi tra l'altro simulando giocato alcune partite con il bocca di me ho dimenticato di dire all'inizio ho vinto anche la super coppa mi sembra si chiama essere coppa una cosa del genere quindi un altro trofeo che penso si giochi chi vince la carabao è la carabao chi vince la libertadores perché l'anno scorso non le non la giocai quindi sicuramente per chi gioca per chi vince la coppa libertadores va a fare anche quel trofeo intanto buono guadagno 30 mila dall'investimento sulla catena dei ristoranti ormai gd finito per gli affari un milione e tre benissimo ho un milione di euro in banca e voglio no giocare in borsa no proprietà potrei fare proprietà residenziale no per il momento non mi interessa investi nelle start up tecnologiche investi nei videogiochi no vado a rinvestire nella linea di profumi di prodotti e bellezza vai che gamer è anche un bel ragazzo quindi ci può stare e poi voglio andare acquistare qualche altra cosa dai visto che ho tutti questi soldi vediamo cosa posso acquistare aspetta no l'ho deciso non voglio per mento non voglio sciocchezze voglio una cosa che mi può essere utile vero un acquisto acquisto un tapirulan 35 mila euro mortacci su quanto costa sto tapirulan ma media shopping non li faceva vedere scontati perché io devo acquistare un tapirulan 35 mila euro ma quando mai si è visto ma che è sto tapirulan ma manca una macchina costa così ma mamma mia vabbè mi becco velocità scatto più 1 bonus allenamento 10 per cento vai acquisto un tapirulan che mi può far bene ma quanto costa questa roba mettilo che soldi ma pure mille euro ma ancora ti voglio far mille euro è tanto è però mille ma 35 mila euro ma che tapirulan ma mi deve portare in giro comunque giochiamo la prima partita su un titolare con il bologna quindi vediamo di esordire bene mi raccomando atalanta che si presenta con questa formazione titolare così gollini demiral gym city toloi cose anghissa l'atalanta ha preso anghissa varela male mi pare si pronunciasse mele male non so pasalic hernandez e jedi quindi attacco a 2 3 4 1 2 io non ho mai giocato perché col bocca giocavano con una punta centrale quindi ho un compagno d'attacco potrebbe rivelarsi utile diciamo un attacco a 2 ma se più devastante come ci potremmo pestare anche i piedi a vicenda eh chi lo sa vedremo sperimenteremo ovviamente la prima partita non posso dare subito giudizi definitivi sia in positivo che in negativo eh posso dire oh buona partenza posso dire partenza da schifo però uno può partire subito più facilmente come può partire più a fatica e poi man mano farsi strada atalanto bologna dai ragazzi subito jedi in italia il padre non era mai andato lui si al padre l'avevano allontanato a pomodori se vi ricordate e l'aveva acquistato l'ajax e l'ha fatto rinascere invece j è partito subito come grande promessa la rosa è stata rafforzata per centrare questo traguardo j subito voleva presentarsi si dispera gasp avanti ragazzi io voglio puntare alla champions league almeno non dico scudetto però champions league perché la squadra la vedo abbastanza fortina eh per puntare a quel traguardo j chiama palla cerca il cross dentro subito assist chi è scalvini chi ha segnato di testa che ce l'ho anche nella regina no goal sense goal sense eh perché io ce l'ho io il 4 nella regina scalvini ecco perché ho detto subito scalvini l'arbitro interviene sarà punizione contro il bologna ah la batto io la punizione ma io avrò una di punizione scandaloso corto quindi cerca lo schemino ah peccato oh occhio bravi no è fuori gioco no no cretino io cretino io cretino io scusate compagni miei cretino io j allarga j no peccato me la stava servendo me la stava servendo peccato dai ragazzi recuperiamo calcio d'angolo per il bologna che vuole il pari correre in aria un grande intervento del portiere andranno ancora dalla bandierina ottimo qui l'intervento l'anticipo il recupero del pallone jd prova a scattare appoggia vai vuole sfruttare la velocità dai dai tira tira puoi tirare da lì troppo lento troppo lento troppo indeciso il bologna fa circolare molto bene il pallone qui nooo è pareggio del bologna pareggio del bologna jd madonna ma che sfiga oh in sta partita non riusciamo a metterla dentro che sfiga oh è mancato questo far gol perché poi il bologna ha trovato il pareggio nell'unica occasione avuta eh finisce 1 a 1 non un inizio un inizio buono forse a livello di prestazione ma non a livello di risultato no no sbagliato e mannaggia eh occasione per la salernitana mo fanno pure il 3 a 0 guarda è finita ma ma che schifo però così c'è mi ha dato pochissime occasioni buone addirittura e fa fa due gol alla salernitana che diamine c'è assurdo assurdo però modalità fatta veramente male così o ti fa vincere e te la fa perfetta che ti fa fa 3-4 gol oppure ti fa perdere senza farti giocare occasioni eh allora io qui direi che posso saltare tanto non è che cambio subito con l'Atalanta almeno dovessero proprio andare male le cose proprio a gennaio ma non è che sono venuto ora siamo ancora un punto GD in due giornate non si è ancora sbloccato quindi non è un inizio brillantissimo eh pur vero che una l'ho simulata però questa si gioca con l'Udinese assolutamente l'Udinese squadra di tutto rispetto andiamo a giocarcela dai dai Atalanta su cerchiamo la prima vittoria io voglio e ci credo a questa Champions League dai Jay dai Jay dai Jay il palo e vabbè dai e vabbè questa è sfiga questa è sfiga Jay inizia la sua nuova avventura anche con la sfiga questo è sfiga però che diamine dai ho ho 99 quando ho di finalizzazione forse anche più di 100 e becco il palo e che diamine 5,9 occhio che questo mi sostituisce è vero che stiamo ancora alla mezz'ora ma che sfiga c'è 90% di possesso palla Udinese in 41 minuti ma quando mai si è visto ma quando mai si è visto ma quando mai si è visto 90% di possesso palla in 40 minuti cioè proprio stiamo facendo cagare stiamo facendo ma altro che Champions League ma altro che Champions League qua qui dobbiamo combattere per la salvezza se continuiamo così oh ci diamo una mossa o no io ho scelto l'Atalanta perché mi sembrava un buon ambiente ma qua rischiamo di fare veramente una figuraccia eppure l'inizio presagiva nonostante il risultato non presagiva così male carica il tiro ancora murato crossala palla ancora buona attenzione da lì Gail ancora palo meno male che è entrato qui ma ancora palo io non ci posso creare due pali presi due pali presto pallone maledetto per GD eh vabbè eh vabbè oh dai mettila è finalmente gol è finalmente gol è finalmente gol ci sblocchiamo un po' fortuito ma compensa i due pali presi silenzio zitti tutti i critici bravo Adani zitti tutti i critici per 2 a 0 finalmente GD si sblocca trasfortuna giocare male io voglio sono curioso di vedere alla fine il possesso finale se è rimasto altissimo cioè al quarantesimo era 90% per l'Udinese ma ci rendiamo conto dello scandalo 9 dire 6 l'abbiamo a meno portato a una decenza 45% ecco qua così ho la massima fiducia di Gasp che forse ha capito che forse sono il meno colpevole di un inizio non facile per l'Atalanta allora adesso voglio andare nel mio calciatore e spendere questi 4 punti abilità per continuare a migliorare dove era qui o dribbling mi sembra fosse qui sì un punto qui dribbling fammi vedere qui prendo 4 controllo palla dribbling 89 allora vabbè un punto e un punto spendo un punto qua un punto qua così vado a 96 qua quanto ne devo spendere 1 e allora così spendo 4 per il dribbling così vado a 93 così vado a 93 e spendo più 4 qui completo il punto così vado a 100 di controllo palla e concludo così con questi settaggi vado ad 89 di valutazione poi magari vedrò un po' nel gioco aereo vedremo come spendere questi punti andiamo a giocarci anche la prima partita di Europa League contro il Rennes una squadra insidiosa non è non sarà facile no sono in fuorigioco aspetta oh questo è fallo questo è fallo ah l'ha fischiato non farmela battere a me me la fa battere a me ma io non sono bravo nelle punizioni fa il coccodrillo intanto il palo mamma mia il palo da punizione con punizione proprio bassissima ce l'ho e qui il portiere è battuto perché si è mosso proprio a passo di lumaca che peccato no è un fuorigioco no è goal è goal è goal ottimo as mi sembrava fuorigioco assist di Jay secondo assist è complessivo vai così vai così la chiama Jay serve questo cross in aria a me sembrava fuorigioco poi magari sbaglio piccoli la segna però a me sembrava fuorigioco se devo essere onesto però beh me ne frega gol rubato stiga per una volta dai capita a noi no poi magari mi sbaglio Jay che goal che goal primo goal in Europa League della sua carriera lo fa al debutto il numero 7 potevo sono stato egoista però sono riuscito a segnare perché potevo metterla in mezzo però vabbè dai ci sta un po' di egoismo per l'attaccante 2 a 0 per noi e Jay e Jay inizia a farsi vedere con i suoi goal secondo goal complessivo e due partite di fila tra campionato ed Europa velocità mette in velocità Jay Jay e sono due e sono due doppietta 3 a 0 e qui per riposare l'ichier richiedo la sostituzione K.O. tecnico ottimo debutto in Europa League simuliamo 4 a 2 azz ci siamo fatti subì due gol segna il quarto gol Pasa la rete inviolata proprio non è cosa nostra eh bene quindi direi che per oggi è tutto iscrivetevi al canale cerchiamo di arrivare ai 400 iscritti possiamo farcela lasciate un mi piace attivate la campanella per non perdere i prossimi video bye ciao 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 ciao